Sciopero regionale oggi in Sicilia dei dipendenti precari in servizio presso gli enti pubblici. Due le città scelte dalle organizzazioni sindacali per le manifestazioni, ovvero Agrigento e Messina. Nella città dei Templi sono confluiti i contrattisti della Sicilia centro-occidentale, mentre i precari della parte orientale dell'isola si sono dati appuntamento a Messina. I lavoratori chiedono a gran voce la stabilizzazione della loro posizione lavorativa che è in bilico da circa 20 anni. A loro fianco anche numerosi amministratori comunali. Tra questi precari figurano anche i 69 in servizio al comune di Favara, il cui contratto è scaduto il 1 maggio e che attendono da Roma importanti risposte sul loro futuro occupazionale. Il rischio licenziamenti, che oggi interessa i contrattisti di Favara, presto potrebbe interessare anche i loro colleghi del bacino LSU, delle strutture del comparto sanità, dei dipartimenti regionali della protezione civile, dell'acqua e rifiute dell'ambiente e di tutti gli altri enti regionali e territoriali. In Sicilia sono diverse le cifre attestanti il numero del precariato. Secondo una stima, i dipendenti degli enti pubblici con contratto a tempo determinato sarebbero circa 25.000. Unisce tutta la Sicilia, sì, perché dopo 25 anni stiamo ancora qui a disquisire sulla latitanza della regione Sicilia, che non si è mai voluto esprimere in maniera chiara, netta, su quelle che sono le sue posizioni. Noi rivendichiamo il diritto al nostro posto di lavoro per avere svolto in questi 25 anni con coscienza il nostro ruolo. La regione Sicilia deve assolutamente mettere un punto a questa vergognosa vertenza. Purtroppo oggi abbiamo un esempio preciso. Al comune di Favara 69 contratti non sono stati rinnovati. Il comune di Favara ha bloccato i cantieri per la realizzazione dei loculi cimiteriali. Hanno solo 14 loculi, con una media di 4 alla settimana. Fra tre settimane non ci saranno loculi per tutta la collettività favarese. Le buche della strada non riescono più a starci dietro. Hanno danni di migliaia di euro per risarcimento. Nessuno che sia in grado più di fare la manutenzione al verde pubblico. Questo è l'esempio di quello che succederà nella pubblica amministrazione se non si pone freno a questa precarizzazione che dura da troppo tempo in Sicilia. Noi sosteniamo assolutamente la presenza di due leggi, una a livello regionale e l'altra a livello nazionale, in maniera tale da poter arrivare pur con lo stesso impegno di spesa alla stabilizzazione dei lavoratori. Queste manifestazioni continueranno a macchia d'olio in tutta la Sicilia e noi bloccheremo la pubblica amministrazione perché ad oggi ci rendiamo conto che il personale precario è assolutamente importante. Noi chiediamo la stabilizzazione di questo personale. È una stabilizzazione così come fu fatta al tempo anche per la 285 con tutto quello che ne consegue. Questo personale dei lavoratori è indispensabile per gli enti locali che tenga presente i vigili urbani oppure tenga presente anche la situazione che c'è all'interno delle aziende sanitarie dove ci sono medici e infermieri che sono precari. Immagini lei se domani mattina questo personale andrà a casa, cosa succederà? Questa è la situazione molto grave e pertanto la regione non solo deve stabilizzare le somme per questo personale ma procedere al più presto alla conversione dei contratti con i contratti a tempo indeterminato.